Guerrina Piscaia potrebbe trovarsi in Belgio. Era stato un sessantenne di carafele a notare una donna dalle movenze simili alla casalinga vervie lo scorso settembre. Un avvistamento che ha però perso consistenza giorno dopo giorno e che è stato definitivamente smontato dallo stesso compaesano sentito ieri dai carabinieri. La sua testimonianza è stata messa verbale, quindi cristallizzata. L'uomo ha raccontato di aver visto una donna di corporatura robusta e dal viso tondeggiante uscire da un portone. Ma i due non si sarebbero parlati. L'uomo si trovava in Belgio per lavoro e stava attraversando la città di Vervie in auto. Il compaesano in un primo momento non avrebbe dato peso all'avvistamento e solamente al ritorno a Caraffello gli sarebbe tornato in mente l'episodio. L'uomo agli inquirenti avrebbe anche detto che se fosse stato certo che quella donna vista di spalle in Belgio fosse stata Guerrina, lo avrebbe detto immediatamente. Secondo gli inquirenti non ci sarebbero dei collegamenti fondati tra l'avvistamento e la scomparsa di Guerrina Piscaia.